Bergamotto patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo l'obiettivo finale del progetto Bergamotto identità culturale promosso dall'associazione Lesperide di concerto con l'ente provincia di Reggio Calabria e presentato presso la sala biblioteca di Palazzo Foti nel corso di una conferenza stampa. Una sinergia che porterà una serie di azioni territoriali che punteranno a rendere tutte le attività di marketing riguardanti l'agrume, promosse da diverse realtà, a radicarsi nella coscienza collettiva della provincia regina e dei calabresi. La crescita produttiva deve necessariamente passare da un reale sviluppo culturale perché l'importanza dell'identità di un territorio è in aumento, ormai prioritaria o complementare ad azioni di mercato. A spiegare il progetto Domenico Morabito, naturalista e responsabile dell'Idea per Lesperide, alla presenza di Rocco Biasi, assessore provinciale per le attività produttive e al presidente Giuseppe Raffa. Questa è una nuova proposta, un nuovo progetto che l'Associazione Lesperide in sinergia con la provincia porta avanti sul territorio. Il primo passo è riacquisire l'identità del territorio. Il bergamotto è uno degli elementi più importanti e più conosciuti a livello mondiale della nostra provincia e non parlo ovviamente solo come prodotto ma anche come storie, come economie e come tradizioni. Tutte le forze attive che si occupano ovviamente del bergamotto, che si occupano del territorio, devono unirsi per poter valorizzare al 100% il bergamotto. Quindi non solo come prodotto ma anche come cultura, anche come territorio. Il nostro obiettivo finale non è quello di chiudere un progetto per parlare solo del bergamotto ma è portare il bergamotto a poter entrare nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Poter immaginare che il bergamotto sia al centro dello sviluppo economico ma anche sociale perché cercheremo con questo progetto di mettere al centro non solo il prodotto in se stesso e la sua valorizzazione nel settore dell'enogastronomia e anche della cosmetica ma anche recuperando quel valore simbolico, quella grande valenza culturale e sociale che il bergamotto rappresenta per il nostro territorio. All'UNESCO vengono fatte delle proposte le più bizzarre e noi riteniamo che questa abbia un suo fondamento perché intanto è una peculiarità di questo territorio. È un'eccellenza che è conosciuta in tutto il mondo per la sua vocazione sotto il settore delle profumerie e quindi di questa sua valorizzazione dell'essenza. Riteniamo che si possa fare molto di più e fare questa proposta all'UNESCO che noi sosterremo con tutte le forze può rappresentare secondo noi la chiave di svolta.